Avrei voluto stupirti con effetti speciali ma visto che sei un videomaker sarebbe stata dura e quindi ti ho portato un santo, un santino. Allora tu non mi hai portato un santo, tu mi hai portato un effetto speciale. Questo entra di diritto nei miei dieci passiti preferiti. Qui abbiamo un passito affumicato. Ho scoperto questa cantina grazie a una sommelier che in un evento di passiti mi hai corsa dietro e mi ha detto no guarda Dario devi assolutamente assaggiare questa cosa e al primo sorso mi sono innamorato. Siamo nelle Marche, quindi Marche che si conferma una regione dai vini grandiosi. Cantina La Montata, trebbiano antico, sauvignon e il moscato petit grain che non avevo mai assaggiato ma diventa di fatto uno dei miei vitigni preferiti. Questa è una cantina nata intorno al 2000. Il fondatore fino a trent'anni fa era a Stemio, un po' come me, quindi si può guarire dalla Stemietà. Passiamo al vino. La cosa interessante non è tanto quella che riguarda il Sauvignon e il moscato che fanno un appassimento piuttosto classico, ma al Trebbiano questi se lo mettono in casa a finestre aperte per sei mesi. Su un ambiente dove c'è un camino va bene, poi ogni due o tre volte diciamo in questi sei mesi chiudono tutto, affumicano tutto e queste uve poi vengono pressate e alla fine viene fatto il blend. Mi ricordo un po' come viene fatto il whisky torbato. Tra l'altro il Trebbiano antico viene lasciato in una demi-barrique che è una... Il caratello. Il caratello credo adesso per 60 mesi mentre gli altri fanno 24 mesi di acciaio e alla fine viene fatto il blend. Quindi insomma non è che proprio sia il vino più semplice in assoluto da produrre. No, ci mettono sicuramente impegno ma è riparato del risultato. Assolutamente, assolutamente. Come lo abbiniamo? È un vino abbastanza polivalente. Ci sta il classico Cantuccio, però ci sta anche un bel formaggio erborinato. Un formaggio di media o lunga stagionatura con della confettura, con del miele accanto. È di una lunghezza impressionante. Tra l'altro ha anche una buona acidità, probabilmente dovuta dal Sauvignon e questa è quello che lo rende ideale anche per esempio per un gorgonzola. Quando abbiamo assaggiato la prima bottiglia che ci hanno mandato me l'hai fatto assaggiare con un pecorino alle pere. Ah sì 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 ricordo. Ragazzi era fenomenale. Questa è la versione base tra l'altro. Poi ci sono versioni ancora più definite in cui loro scelgono i chicchi più scuri e più chiari e fanno delle versioni diverse. Io spero veramente che avrete occasione di assaggiare questo vino e ci ringrazierete. Anzi se ci iscrivete per dirci quali sono le vostre impressioni ci fate veramente contenti. E adesso che fine farà questa bottiglia? Dai la berremo insieme. Non so perché non mi crede. Cioè questa cosa mi offende. Devo dire che mi offende il fatto che tu pensi che me la berrò tutta da solo. Mi salvo il bicchiere. Sì. Ringrazio Antonio Baffioni che è il titolare che ci ha dato questa chicca. Grazie. Grazie. Ciao.